Siamo con Mohamed Koli al termine di Brescia Provercelli 2-0, innanzitutto peccato per il gol subito dopo 90 secondi neanche. Sì, la partita è nata subito in salita purtroppo perché abbiamo preso un gol dopo 90 secondi, nonostante c'eravamo detti di partire a corti e cercare di limitare la loro partenza forte, invece non siamo stati bravi a contrastare, purtroppo le partite che nascono così poi diventano molto più difficili ed è una partita secondo me che si poteva portare il risultato a casa, l'abbiamo dimostrato nei 90 minuti, magari ci è mancato un po' più di ritmo partita, visto che in tanti comunque da tanto che non erano dei 90 minuti, è stato un peccato perché è una partita buttata via e è un risultato positivo che si poteva portare a casa. Questi sono magari anche un po' di episodi, loro hanno colpito sia la prima occasione che poi la seconda nella ripresa, dopo quell'azione nei primissimi secondi, invece a Provercelli un palo con sprocati e poi anche a tempo, nei minuti di recupero l'occasione così vicina per Marchi che non ha inquadrato la porta, dove andrà anche un po' così forse? Sì, sono stati più cinici di noi, il calcio è così, bisogna sfruttare le occasioni che si creano, essere bravi e determinanti in quelle situazioni, perché i gol comunque abbiamo preso due tiri, due gol, noi non siamo riusciti a fare altrettanto, dobbiamo essere più bravi a concretizzare quelle occasioni che creiamo, perché possono spianare la partita in un verso o nell'altro. Sabato arriva il Crotone, una partita che bisogna pensare di vincere anche un po' per rialzare nuovamente il morale dopo questo primo passo falso. Sì, sì, pensiamo già subito a sabato perché ormai questa è andata, doveva andare così purtroppo, adesso recuperiamo le forze perché sabato comunque arriva uno sconto diretto, una buona squadra, che penso oggi abbia vinto, quindi contro il Bari è un'altra grande squadra, quindi vuol dire che hanno valori importanti, tocca a noi recuperare le energie e pensare subito a riscattarci.